Al via il prossimo 18, 19 e 20 agosto nel centro storico di Rutino, la festa dei sapori, evento organizzato dall'Associazione per Rutino, in programma musica popolare dal vivo, esposizione di prodotti tipici, mostre itineranti, degustazione dei vini barone, magnone e rotolo. Sarà possibile inoltre degustare prodotti come i fusilli, cavatelli, lagane e ceci, pollo e salsiccio alla brace, patatine fritte, cionbotta, mulignane imbuttonate, acqua sale, panino con soffritto, zeppole cilentane. Tutto il guadagno sarà devoluto alla parrocchia di San Michele Arcangelo.